Ciao a tutti, oggi sono tornata con una nuova tipologia di video che in realtà ho sempre voluto fare ma non ho mai trovato i capi giusti e questa volta ho da farvi vedere il creme della creme ragazzi, soprattutto riscontrerete molti capi che sicuramente si adattano proprio perfettamente alla mia persona quindi sono sicura che ad almeno la metà di voi piacerà quello che ho preso tutto quello che vedrete di capi d'abbigliamento, accessori eccetera mi è stato inviato gentilmente da Zaful e se volete vedere meglio tutti i capi, prezzi eccetera vi lascio linkati qua sotto capo per capo così potete andarli tranquillamente a vedere e in più alla fine del video, quindi seguitelo tutto, vi faccio vedere dei nuovi arrivi di make up che mi sono arrivati da due aziende in particolare che mi sono arrivati proprio oggi quindi iniziamo con le cose di Zaful mi sono arrivati due choker che sono quelle collanine che vanno qui a giro collo l'unico fatto è che una mi si è rotta perché l'ho tirata troppo quando l'ho messa mentre l'altra l'ho regalata a mia sorella che adesso ce l'ha indosso quindi non posso farvele vedere però se andate ripeto nel sito qua sotto le trovate erano bellissime poi partiamo con la prima cosa naturalmente gli accessori non ve li faccio vedere indossati perché non avrebbe senso farvi vedere una sciarpa indossata quindi la prima cosa appunto è questa sciarpina qui sono fatte benissimo le cose e cosa più importante dato che comunque a un sito cinese e giapponese non puzzano l'unico punto a sfavore di questo sito e poi ve lo farò vedere dopo con l'abbigliamento vero e proprio sono le taglie perché non sono affatto giuste non sono molto inerenti alla realtà comunque stiamo parlando di questa sciarpa io sono fissata dovete sapere con le sciarpe soprattutto quelle fatte a questa fantasia qui quindi un po' tipo barberi queste cose un po' geometriche linee eccetera qui ho preso questa sciarpa ve la faccio vedere così indossata tra l'altro si può mettere anche tipo come spolverino insomma così e queste vanno così come vedete è molto pomposina io l'ho già presa alcune sciarpe da altri siti non mi sono mai piaciute invece questa qua è abbastanza pomposa quindi mi piace passiamo al primo capo di abbigliamento intanto come sempre non fate caso a guenda dietro che è questo giubbotto allora piccola premessa sono rimasta abbastanza delusa della taglia e in più sono rimasta scioccata per il cartellino perché questo tipo di giacchettino infatti io l'avevo già visto da Zara sapevo che comunque viene sempre dalla Cina perché quasi la metà dei vestiti vengono dalla Cina però questo chiodino alla fine è un chiodo di finta pelle color ocra sa l'etichetta di Zara Basic la cosa inquietante è appunto questa e invece il fatto della taglia sono rimasta un po' così perché io ho preso un XL e adesso vi faccio vedere che questo non è neanche una M infatti le cose che vedrete indossate praticamente più della metà sono indossate da altre persone perché a me non mi entrano non ce l'ha detto sinceramente e infatti questo giacchetto non entra tra un po' neanche a mia madre che comunque porta una 40-42 e spacciarlo per una XL mi sembra un po' esagerato comunque ve lo faccio vedere perché comunque è molto carino è fatto benissimo cioè tutte le rifiniture sono fatte bene la zip eccetera e appunto è questo chiodino color ocra ma tanto li vedrete meglio indossati fatto proprio bene bene non puzza è molto comodo comunque appunto è carino carino e la cosa secondo me carina è che arriva un pochino più sopra della vita quindi è proprio stiloso poi la prossima cosa che vi faccio vedere è questo costume questo qua non ve lo faccio vedere indossato per ovvi motivi però ripeto trovate tutto nel link qua sotto è un costume molto tumblr cioè ma molto molto tumblr ed è formato da due pezzi allora ve li faccio vedere questi qua sono sempre un XL vedete anche se questi qua ci si può anche spacciare perché comunque è bello largo ed elastico è un costume però secondo me si può mettere anche sotto magari a qualche camicia scollata per uno stile appunto un po' tumbleroso no? e quindi questo è il pezzo di sopra è questa sorta di toppino come vedete c'ha i pesciolini qua dentro leggermente imbottiti ma niente di che e poi sotto c'ha questa fascia nera con scritto baby got back tutta fatta così e quindi è praticamente un costume a vita alta perché arriva più di sotto il seno cioè devi avere due perette cioè ve lo dico proprio sinceramente però è molto carino anche il dietro perché c'ha questa strisciolina così e la parte sotto è fatta in questo modo qui quindi vedete la mutanda è a vita alta e non è a mini bikini è una bella mutandona da nonna però secondo me è proprio figo cioè mi piace poi c'ha appunto questa fascia qui elastica tanto elastica e riprende poi il pezzo sopra quindi è bellissimo questo qua è una delle cose che mi è piaciuta di più poi vi faccio vedere un'altra cosa di cui io sono rimasta scioccata anche di questo ho preso la XL e sono questi pantaloni simili adidas sempre un po' della tuta e allora primo cioè questa me la spacciate per un XL questa non entra neanche a un bambino di 7 anni comunque è abbastanza elastica quello si vedete comunque si allarga quasi il doppio c'ha queste righe appunto così questa qui la vedrete indossate sicuramente e ha anche l'elastico qua sulla caviglia quindi è carina primo punto negativo è super trasparente ma proprio tanto dovete metterci qualcosa un pochino un pochino coprente e poi sempre insomma il problema della taglia però comunque in generale i tessuti proprio sono abbastanza buoni mi ha sorpreso poi c'è quest'altro sciarpone che invece è di un altro tessuto perché è proprio tipo lanoso caldo sempre con la stessa fantasia più o meno vedete e anche questo me lo metto è fatto in questo modo naturalmente è molto più pomposo dell'altro dato il tessuto secondo me è molto carino allora sono finiti tutti i capi di abbigliamento adesso sono rimaste due scarpe e due pochette barra borsette questa è la borsa allora ve l'avro nella custodia originale questa qui è come arriva in questa bustina così poi la tiriamo fuori ed è questa borsettina qui allora come potete vedere è incartata molto bene sia i manici sia qua le rifiniture togliamo anche l'imbottitura dentro come vedete sono fatte bene la cerniera scorre che è una meraviglia adesso apriamo insieme la seconda questa qui è un po' più particolare sia il colore sia quello che ha sopra questo è una sorta di micro zaino fatto così con questi patch insomma con queste cose appiccicate sopra cioè un rossetto una sorta di scudo un po' greco e poi stelline e simboli vari ha un po' uno stile militaresco è abbastanza capiente in realtà me lo aspettavo molto più piccolino guardate e c'è anche la tracollina colore tra l'altro questo grigio verde militare bellissimo e ora vi faccio vedere le due scarpe come vedete arrivano con la scatola quindi sono molto molto accettabili allora la prima è questo stivaletto io sappiate che porto 40-41 però naturalmente le scarpe cinesine un po' sono piccoline però queste qua ho preso 40 e devo dire che mi vanno abbastanza bene sono degli stivaletti normalissimi neri lucidi si mettono vedete da qua sopra c'è l'elastico sono molto comode e la suola non è per niente fasulla cioè non è né rigida troppo né troppo morbida però che quando camminate magari vi fa male e sono fatte davvero bene cioè guardate sono lucidi e lucide mentre l'altro paio è un po' più particolare e diciamo che non l'ho preso neanche per me perché comunque io non le porto queste scarpe ma era comunque per fare una prova per vedere cosa offre il sito e sono queste scarpe con il tacco fatte a stivaletto io adoro questo modello ma sono praticamente impraticabili da portare perché non avendo plateau e avendo il tacco così sottile queste te ammazzano in 5 minuti comunque si sono fatte bene perché la cerniera si apre tranquillamente si chiude e sono di una sorta di camuscino e vi ho lasciato il meglio alla fine ho preso due coperte fatte a code di sirene cioè vorrei un amen in questo momento perché sono bellissime allora la prima è questa che in realtà credo di aver sbagliato perché l'ho presa tipo misura bambino perché è molto piccola infatti la vado a regalare poi alla figlia di mia cugina che comunque ha 5 anni quindi primo penso gli piacerà tantissimo il colore e poi sicuramente gli piacerà la forma come vedete qui sotto ha la coda della sirena eccola qui e il colore è bellissimo perché è proprio questo celeste questo ti ci metti dentro tipo sacco a pelo e ci stai sul divano sono bellissime idee anche per dei regali secondo me sono fantastiche poi io che amo le sirene ve l'ho ripetuto centomila volte tatuaggi eccetera cioè è bellissimo e poi ho preso questa qua che invece è più grande e infatti questa qui me la metto molto tranquillamente ed è di questo colore bellissimo sul viola vedete questa è la coda tan 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 e ha questi fili dentro sbrellucci così che non si vedranno mai da là però vabbè e poi c'è anche del celeste in mezzo questa qui è molto più grande tra l'altro pesa un boato e vedete questa è la coperta ve la mettete così sta dal calduccio e sotto c'avete la coda eccola qui e io sono tipo al settimo cielo di averle queste qua per le fortunate che sono rimasti fino alla fine volevo farvi vedere quello che mi ha inviato Mulac Cosmetics e We Makeup sono due marchi italiani Mulac Cosmetics ha reinventato la formulazione delle Velvet Ink e appunto l'ha rispedita a tutti i vari influencer in più sono anche uscite già sul sito e volevo farvele vedere perché una colorazione in particolare cioè Vanguard che è questa qua se ve la ricordate era leggermente più color fango invece adesso è questo colore qui però sbocciate perché io l'ho sbocciata con quella vecchia sono uguale c'è la colorazione identica quindi secondo me hanno aumentato sicuramente la pigmentazione la durata non so dirvi perché ieri ne ho provata una ho provato Just Like a Drop e non è che mi ha sembrato poi così migliorata sotto il punto di vista della durata perché sull'asciugatura e la stesura appunto la pigmentazione sono fantastiche la durata è sempre un po' una picca comunque le colorazioni sono bellissime vi faccio vedere queste tre sono quelle più sui toni neutri questa è In My Birthday Sweet Just Like a Drop e appunto Vanguard sono la 1 la 2 la 3 non vi sbagliate mentre le altre tre sono un po' più particolari e sono queste tre qui quella rossa è Old School poi c'è questa qui violettina chiara che si chiama Hot Stuff e questa che è il creme della creme guardate cosa non è bellissima questa qua si chiama Invictus quindi se vi va di andarle a provare vi lascio il link qua sotto dove potete andarle appunto a comprare poi vi faccio vedere questo pacchettino che mi è arrivato da WeMakeup che è un brand italiano in realtà ha fatto il boom da pochissimo tempo e il bello di questo marchio è il packaging come confezione alle cose allora a me è appena arrivata la scatolina quindi potete anche vedere com'è impacchettata e all'interno abbiamo i prodotti mi hanno inviato quattro tinte un ombretto bar eyeliner in gel un haul cioè ci può fare qualsiasi cosa poi vedrete di che colore è magnifico e una cipria eccola qua quindi vi faccio vedere una cosa per volta partiamo dalla cipria come vedete i packaging sono tutti bianchi ma hanno tutte queste scritte qui c'è scritto once si chiama Ipanema Smooth e vedete quando andate ad aprire qui ci sarà questa scritta c'è su ogni prodotto su ogni confezione qui c'è scritto once you try me you will want more quindi una volta che mi hai provato ne vorrai sempre di più ecco perché si chiama once questo è il prodotto è molto carino la scatolina il packaging e all'interno ha lo specchio il puff e questo è il prodotto naturalmente poi lo proverò e vi farò sapere poi vi faccio vedere questo qua haul che secondo me è bellissimo si chiama Madina Red ed è lo 01 e appunto c'è scritto che lo puoi usare come ti pare give me all e qui c'è scritto tutto in uno lo puoi usare sulle labbra sugli occhi come eyeliner come blush e infatti è questo colore qua ma io vorrei farvelo vedere dal vivo perché è una cosa spaziale è un misto tra fucsia rosso bordeaux questo è proprio fantastico la colorazione perché i prodotti non li ho ancora provati poi vi faccio vedere l'eyeliner che si chiama Wild e si chiama Cirque Navi 04 vediamo se c'è una frase eccola qua get it now while the going is good e il prodotto è questo qui di questo colore blu meraviglioso blu navy proprio bellissimo questo qua non vedo l'ora di usarlo come eyeliner anche perché il blu sta molto bene sui miei occhi a quanto pare a quanto dicono e quindi sono molto curiosa poi vi faccio vedere i quattro rossetti liquidi sono di due collezioni diverse penso perché due sono praticamente metallizzati e hanno questa confezione qui con la striscia colorata mentre gli altri due sono normali vi faccio vedere il primo che si chiama ever questa qui è la confezione penso di tutte le tinte si chiama ever proprio perché penso durino sempre si chiama vico fucsia ed è la 05 ha un colore fantastico questo è il colore meraviglioso queste qua le voglio sbucciare proprio per provarle insieme i colori sono anche molto pieni poi abbiamo l'altra che si chiama salina rose questo colore qua mi fa impazzire è un nude leggermente terra bruciata bellissimo anche una punta di pesca anche questo pienissimo la frase di questo è believe me girl this could be your best time ever sempre appunto con la parola ever dentro poi abbiamo questa qui si chiama sapas sparkling ed è la 10 e c'è scritto never say never just say ever che carina oddio allora l'apriamo questa qui è questo colore assomiglia moltissimo alla tinta che io ho comprato da color pop che si chiama zebra e mi sembrava molto simile però in realtà questa qua è molto più ramata e l'ultima si chiama 09 alba glow could even ever be like this questa era la frase e adesso ve l'apro questo qua è un color tipo champagnino dorato bellino 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 fa un sacco di luce questo vorrei provarlo anche tipo come ombretto perché secondo me è spaziale guardate la luce che fa bellissimo non vedo l'ora di provarli proprio sulle labbra infatti mi sa che il prossimo video che giro perché oggi è giornata video provo uno di questi sulle labbra perché adesso ho dilemma di Nabla però secondo me uno di questi può fare a caso mio quindi questo era tutto quello che dovevo farvi vedere vi ripeto trovate tutto qua sotto anche il link di WeMakeup vi metto tutto quanto spero questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto thumbs up e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e noi ci vediamo al prossimo video io vi aspetto qui ciao ciao ciao